Oggi, dallo spazio, non ho visto niente di troppo particolare. Ho visto solo che la popolazione comunque non ascolta ancora i richiami continui di quello che ha detto e di quello che viene ancora detto dai politici, ossia di restare a casa. Vedo sempre gente che se ne va in giro e questo mi dispiace, mi dispiace parecchio. D'altro canto, la mia quarantena qua nello spazio è stata abbastanza noiosa. L'unica cosa di interessante che ho fatto oggi è fare un po' di allenamento, ma... 1... 2... 2... Ehi, non ce la faccio. Non è stato al massimo, davvero. Oggi vedo molta più gente tranquilla, che rimane a casa, che non va nel panico. E è un lato positivo della cosa. Qua invece non si può dire che sia al massimo, perché è abbastanza noioso stare da soli. In compenso quello che ho fatto oggi... Preferisco non ricordare. In questo periodo ho visto che ci sono stati un paio di miglioramenti, perché vedo che c'è molta meno gente che va in strada, che va in giro. E questo è un lato positivo della cosa. Se vi state chiedendo invece come me la sto passando io, beh... Diciamo che è un po' complicata, perché comunque sono uno studente e quindi... Sono pieno di compiti. Ti prego, ti prego, mangia, mangia i compiti, ti prego che ho bisogno di una scusa, ho bisogno di una scusa. Non li voglio fare tutti questi compiti, ti prego, mangia... Sembra esserci adesso un effettivo miglioramento su tutto. E sono veramente felice di questa cosa. Perché così potrò anche uscire da qua. Non è molto facile rimanere qua nello spazio, anche perché molto spesso non si riesce ad interagire con qualcuno. E credo che stia iniziando a perdere un po' la testa. Lo dico perché... Mi sembra che... Bravo il cucciolotto di papà, bravo, 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 bravo. Ho fatto amicizia con il robot da pulizia. Perché pensavo fosse un cane. Beh, sembra che i contagi stiano di nuovo aumentando. E non è per niente positiva come cosa. Tutti stanno iniziando a delirare. E... Devo mettere che... Sto veramente iniziando a perdere anch'io la testa. Stiamo perdendo molto materiale. E le scorte stanno finendo. Abbiamo mandato qualcuno... Per... Riuscire a prendere più materiale possibile. E spero che... Oggi sono ritornato. Allora, l'hai presa! Non c'era più carta igienica. Mi dispiace. Niente... Più... No c'era più carta igienica. Grazie a tutti.